Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trabi Meteo. Nella giornata di giovedì transiterà un altro peggioramento che coinvolgerà il centro-nord Italia, riportando piogge ma anche nevicate fino a quote piuttosto basse sull'arco alpino, a tratti anche in pianura al nord-ovest a fine giornata. Vediamo più nel dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra comunque un'Italia interessato dalle nuvole, in particolare al centro-nord, mentre la situazione al sud andrà temporaneamente migliorando. Più nel dettaglio anche dello zoom delle precipitazioni notiamo come questo nuovo peggioramento transiterà soprattutto al centro-nord e con fenomeni anche abbondanti sulla Liguria, sulla Toscana, in movimento verso il nord-est e nevicate che coinvolgeranno l'arco alpino ma a tratti anche la pianura del nord-ovest. Più nel dettaglio quindi della previsione avremo una giornata che sarà migliore al sud e con tempo anche asciutto abbastanza soleggiato, mentre andrà peggiorando dal pomeriggio sul centro-nord con piogge e nevicate come dicevo che guadagneranno quote di pianura, in particolare al nord-ovest tra il Piemonte e la Lombardia occidentale verso sera, ma anche sui settori alpini nevicherà fino a fondo valle nel corso del tardo pomeriggio e nella serata. Per maggiori dettagli chiaramente consultate la nostra app di Trabi Meteo.